Se nelle scorse settimane eravamo rimasti sorpresi dalla Samp in positivo, beh, questa settimana sicuramente siamo sorpresi dalla Samp di Giampaolo in maniera molto negativa. Un saluto a tutti gli amici del corner Sampdoriano, andremo ad analizzare la sconfitta per 4-0 contro la Salernitana. Prima di iniziare con il video vi ricordiamo i nostri social, Instagram ancora da 3-0-Sampdoriano, iscrivetevi al canale. Vi ringraziamo per il raggiungimento dei 1.800 iscritti, seguiteci anche sulla piattaforma Viola ogni mercoledì sera live, a eccezione ovviamente dalla partita con la Lazio. Forse faremo una live nella serata di giovedì o di venerdì, adesso vedremo bene di incastrare gli impegni, però in ogni caso seguiteci su Instagram, lì diamo tutte le indicazioni. Andiamo con ordine, una partita preparata mentalmente malissimo, una Samp che con la testa non è mai scesa in campo, è scesa in campo solamente fisicamente. Sicuramente il solito 4-1-4-1 con Villar davanti alla difesa da 4 in pagella, veramente trasparente, non abbiamo visto un Villar attivo in tutta la partita per quanto mi riguarda. Poi è stato sostituito verso il settantesimo, ma è comunque un giocatore da cui ci si aspetta molto di più, ha fatto molto male, non è riuscito a unire difesa e attacco. Con lui sicuramente le colpe sono di Leris, di Rincon, ma più o meno di tutto il pacchetto del centrocampo blucerchiato. Di fronte a una salernitana messa molto bene in campo dal mister Nicola, con il solito 3-5-2, una salernitana che abbiamo visto gioca molto sugli esterni, perciò la conosciamo. È una salernitana che comunque agonisticamente è una delle migliori e ha dimostrato anche di avere delle qualità. Perché giocatori come Vilegna, come Dia, Bonazzoli lo conoscevamo, Candreva, Bottem che è entrato nel secondo tempo e è riuscito anche a incidere. Sicuramente è una salernitana che la Samp, l'ha detto anche Gianpaolo nella conferenza post partita, ha sottovalutato e i risultati si sono visti. Inizia molto bene la difesa della Samp, inizia molto bene De Paoli, che tiene in gioco Bonazzoli, che parte con i tempi giustissimi, riesce a mettere questo pallone in mezzo, De Paoli poteva fare molto meglio, sia, come ho detto prima, nel mantenere alta la linea difensiva e poi anche con la scivolata per cercare di intercettare il passaggio di Bonazzoli verso Dia, sicuramente poteva fare qualcosa di meglio. Molto molto bravo l'ex Villareal, ha la prima titolare, trova anche il primo gol in Serie A, ne sentiremo parlare di questo ragazzo perché ha fatto vedere che le qualità ci sono. Poi arriva il raddoppio di Bonazzoli, un'altra dormita brucerchiata, un'altra azione costruita sulla fascia dalla salernitana, dai ragazzi di Nicola e Bonazzoli, che ripeto è uno dei miei giocatori preferiti, riesce a trovare l'angolo alla sinistra del nostro portiere Emile Audero e riesce a imbucarlo. Poi una timida Samp che inizia a farsi vedere, più o meno attorno alla mezz'ora, dal 35esimo abbiamo visto una Samp che ci ha provato e qui entra in gioco un altro fattore determinante, ovvero la non capacità di segnare. Perché c'è stata quell'occasione plateale di De Paoli, ancora prima dell'1-0, che davanti al portiere, forse alla fuori gioco, forse no, ma non mi interessa, lì devi segnare, davanti al portiere riesce a tirare veramente un tiro incommentabile che va quasi nel settore dei tifosi brucerchiati, l'unica nota positiva di questa partita, insieme a poche altre. Veramente è l'occasione più plateale quella di Caputo, che tira, Sepe controlla male, Sepe piuttosto incerto in alcune parate, poi arriva tutto il pacchetto brucerchiato e Leris, che deve solamente appoggiare il pallone in porta, ovviamente sbaglia e fa un retropassaggio, praticamente, a Sepe. Questo è un po' lo specchio di una Samp molto fragile, che fino a quel momento, in due partite e mezzo, perché eravamo al 45esimo, ne aveva segnati 0 di gol e ne aveva subiti ben 4, bene. C'è tempo per rimediare? Sì, ma non lo sfruttiamo, perché nel secondo tempo questo diventa ancora peggiore, perché la Samp subisce un gol molto bello, un'azione molto bella dalla Salernitana, che però doveva coprire meglio Villar, doveva coprire meglio Ferrari, seguendo l'inserimento di Viregna, un giocatore molto bravo anche lui, poi un 1-2 fantastico e Viregna che riesce a trovare il gol del 3-0 nella ripresa. Una Salernitana che ha tirato meno della Samp, però è stata più cinica. Nel calcio bisogna fare gol, bisogna trovare la porta, specialmente nel gol del 3-0. La Salernitana è riuscita ad arrivare a concludere in 11 secondi. In 11 secondi la Samp d'Aria, probabilmente Daudero, completa un giro palla e ritorna indietro dal portiere. Bisogna migliorare, Giampaolo sta cercando di mantenere questa linea coerente, questo gioco, cercando di far girare palla, però l'abbiamo visto ieri, se non hai la testa assolutamente non riesci a completare questo tipo di gioco. L'abbiamo detto anche in live mercoledì sera, se Djuricic e Sabiri continuano a giocare lontani dalla porta faranno molta fatica. E ieri abbiamo visto anche questo, due giocatori oscurati dal gioco della Salernitana e dal non gioco, dalla non mentalità della Samp d'Aria. E poi arriva il gol del 4-0, davvero una Samp che poteva fare sicuramente molto meglio. Colivali recupera il pallone, parte Bottin che segna il gol del 4-0. Anche qui la difesa della Samp e il centrocampo. Non manca di quell'equilibrio di cui parliamo da settimane. Serve stabilità, serve equilibrio a centrocampo. Quello che è successo a Salerno non è una prova. Ma passiamo alle pochissime note positive. I tifosi, 500 blucerchiati, davvero spettacolari, a sventolare, a cantare, che hanno ricevuto i complimenti dal pubblico e dai commentatori. Speciali, siamo veramente speciali e l'invito è quello di venire allo stadio assolutamente mercoledì con la Lazio. I ragazzi hanno bisogno di noi, abbiamo visto cosa succede quando si gioca fuori casa. È un po' lo specchio della Samp di pochi anni fa che in casa riesce a fare davvero molto bene. Lontane dalle mure del Ferraris però. I risultati sono ben diversi. Poi quattro cambi attorno al 75esimo ed ecco un'altra nota positiva, il ritorno in campo di Manolo Gabbiadini, che è una pedina fondamentale di questa Samp e c'è bisogno di lui assolutamente, perché è un giocatore chiave, ha un mancino favoloso e la Samp ha bisogno anche dei suoi colpi. Entra Quagliarella, entrano diversi giocatori come Verre, che non mi è piaciuto per niente, entra un'altra volta a Molle in campo e Verre deve lavorare anche lui e non poco sotto il punto di vista mentale, perché non puoi entrare in una maniera così. Poi per gli amanti di FIFA, dopo questi quattro cambi, la Samp si è messa con un 4-1, un 4-4-2 quasi a rombo. Per gli amanti di FIFA è un 4-1-2-1-2 con Iepes che poi è entrato a cercare di fare il play. I risultati non sono cambiati, abbiamo visto due o tre spunti di Fabio Quagliarella, il solito capitano, davvero l'unico che ha provato a metterci grinta, uno degli unici. Uno degli aspetti, un altro degli aspetti negativi, non mi è piaciuto molto Sabiri. L'abbiamo parlato prima, magari ostacolato dallo stare lontano dalla porta, però anche nel gol del 3-0 perde un pallone velenoso a centrocampo. Diciamo che deve migliorare anche lui nella gestione del pallone. Sa fare tante cose, sa prendere falli, è un giocatore fondamentale, però deve anche lavorare sotto il punto di vista di quando passare il pallone, di quando tenerlo. L'ha fatto molto bene nelle scorse settimane. Adesso cerchiamo di rimetterci in carreggiata, perché ci aspetta una Lazio in gamba, una Lazio che ha battuto 3-1 l'Inter con una prestazione incredibile dopo le prime due giornate in cui non l'aveva convinto per niente con Bologna e Torino. Si è rifatta davvero con una vittoria per 3-1, una Lazio davvero molto forte che andremo ad affrontare mercoledì. E poi la trasferta al Bente Godico, al Verona, ma anche lì ci si aspetta davvero un grande pubblico. Perciò cerchiamo di andare a supportare la squadra in un momento così difficile. Rimane il ramarico. I commenti post partita di Marco Giampaolo sono molto intelligenti, al di là di quello che ha detto della linea del fuorigioco storta, che secondo me non sta inizionando in terra. Però sicuramente ha messo le colpe, mi è piaciuto il suo comportamento. Cerchiamo di mantenere una linea, cerchiamo di mantenere un equilibrio, di restare uniti, perché in questo momento la Samp ha bisogno di unioni. Abbiamo bisogno di essere squadra e cercare di fare punti, cercando di lottare su ogni parlone e magari di fare gol. Perché adesso la Samp in tre partite ha un punto, ha subito sei gol e ne ha fatti zero. Ed è un dato che deve farci ragionare e non poco. Vi ricordiamo di seguirci su Instagram, corner, trattino basso, Sampdoriano sulla piattaforma Viana. Andiamo live ogni mercoledì sera, seguiteci anche lì, iscrivetevi, mettete mi piace. Da Mattia è tutto, ci vediamo nel post partita di Sampdorio Lazio.